Per non so com'è, ci vuole calma e sangue freddo, calma, ci vuole calma e sangue freddo Della squadra campioni d'Italia perché noi siamo comunque i campioni d'Italia fino a fine stagione E lo saremo anche l'anno prossimo perché tanto il Milan vince lo scudetto, inutile che state lì a... Il Milan vince lo scudetto Ben tornati sul canale, perdetevi questi tre minuti perché voglio farvi vedere una cosa, voglio farvi notare come ognuno porta l'acqua al suo mulino, sta cercando di spostare l'equilibrio tutto da un lato, ma andando in crisi i tifosi, ma in realtà di fatto, di concreto, non c'è nulla. Prima però, iscrizione al canale, iscrivetevi al canale, lasciate like, mi raccomando, è tutto gratuito, missione arrivare a 7000, missione. Attenzione, attenzione, attenzione a questo video perché vi spiego una cosa importante, attenzione. Cercano pochi giorni che ricomincia il campionato, a pochi giorni dal rientro in campo, non si fa altro che parlare di Leao. E se voi andate a guardare sui giornali, sui titoli del web, su YouTube, tutti spostano questo equilibrio, stanno cercando di fare una cosa che a me fa incazzare, perché di concreto non c'è nulla. E ti è presente il pescatore? Io sono un pescatore, io vado a pescare da quando ho 8 anni, adesso ne ho 35, e stanno facendo come i pescatori. Il pescatore cosa fa? Quando va a pescare e il pesce non ha bocca, cambia tecnica, cambia l'amino, cambia la montatura, cambia la pastura, cambia la lenza, cambia... Fin quando il pesce ha bocca, no? Fin quando la trota? Fin quando la trota? Se voi andate a guardare, ieri, l'altro ieri, si leggono solo questi titoli, che adesso me li sono segnati, perché non voglio passare per lo stronzo, dove... Il cazzo li ho messi. Leggo i titoli, e si vedrà anche il link da dove arrivano, ma non me ne frega un cazzo, se lo vogliono segnalare lo segnalano, non mi interessa. Mi leggo i titoli del web, e poi alla fine vi lascio una chicca a uno YouTuber che... Io non so come fa a fare YouTube, quello lì. Se voi andate sul web, leggete... Terremoto Leao! Addio a gennaio! Poi, addio Leao! Il sostituto fa impazzire! Addio Leao! Colpo stellare! Leao rompe gol Milan! Io vi romperei le corna! Leao rompe gol Milan! Fissata la cifra! Leao! Addio! Tifosi gelati! L'ultima è bellissima! Addio Leao! Scenario terribile! Terribile addirittura! Migliore un certo Cirulli, che non so, la maggior parte di voi lo conosceranno perché è uno spara minchiate! Questo mette... Leao ha trovato... Leao ha trovato l'accordo per il rinnovo, lo mette il mercoledì, il giovedì mette incredibile Leao a un passo dall'addio! Un fenomeno! Per far incazzare i tifosi, imbuffalire i tifosi, Leao, addio già a gennaio! Ma Leao ha un contratto, per adesso, col Milan fino al 2024, giusto? Se va via a gennaio, e c'è chi gli offre 8, 7, 12, 11 a lui, a lui di ingaggio, ma l'offerta al Milan dov'è? Dov'è l'offerta al Milan? Se va via a gennaio, come tutti riportano, dov'è l'offerta al Milan? Dove sono questi 80, 90, 100, 200, 300 milioni? Dov'è l'offerta al Milan? Perché non la scrive? Perché non esiste! Perché l'offerta al Milan non esiste! Perché non c'è nulla di concreto! Se è addio a gennaio, ci deve essere un'offerta al Milan, giusto? Non c'è l'offerta al Milan! Non c'è! Perché non esiste! Capite qual è la presa per il culo? Lo fanno per farvi imbuffalire! Per farvi arrabbiare! Posso di parlare che tra qualche giorno si inizia, ricomincia il campionato e si gioca con la Salernitana? Loro pensano a Leao! Che io sono convinto che tanto il Milan a gennaio, calcio-mercato, non ne farà! Perché non ne fa! Avete visto anche la storia del portiere? Prende di qua, prende di là! Alla fine, come secondo portiere, mi sa che alla fine sarà Mirante! Perché il calcio-mercato del Milan a gennaio sarà a rinnovare Benasser, Giroud e Leao! Punto! Dov'è l'offerta al Milan? Dov'è? Che a lui gli danno 8, 7, 9, ma lui ha un contratto fino al 2024! Di concreto non c'è nulla perché nessuno ha fatto un'offerta al Milan! Quindi lo sparate minchiate! Non sparate minchiate! Mi stanno mettendo la nebbia! Non negli occhi, davanti agli occhi! Mi stanno mettendo la nebbia davanti agli occhi per farvi arrabbiare! State tranquilli! Sempre positivi! State tranquilli! Calma e sangue freddo! Vi voglio bene a tutti! Iscrivetevi al canale! E sempre Forza Diavolo!